Natale è anche cultura e quindi perché non approfittare dei diversi musei e mostre del Vallo di Diano che nelle festività aprono le porte al pubblico, un'occasione per scoprire o riscoprire il bello che ci circonda. A partire dalle mostre allestite nella certosa di San Lorenzo a Padula da non perdere, dov'è la patria nostra e della Nova Civitas, una rievocazione della Grande Guerra attraverso un'esposizione di cimeli originali e riproduzioni di documenti, video e foto, frutto di un progetto di ricerca sulla legione cecoslovacca e il ruolo che ebbe il campo di concentramento di Padula. Sempre incertosa da visitare la mostra Grand Tour dell'associazione Factotum, un viaggio tra oli, acquerelle e incisioni realizzate dai lampolli delle case aristocratiche nei loro viaggi di istruzione in Italia tra il XVIII e il XIX secolo. Restando a Padula nel centro storico c'è la 24esima edizione di Presepi in mostra, a cura dell'associazione Amici del Presepio, sezione Pietro Gallo, nella chiesa bizantina di San Nicola de Domnis, nella chiesa dell'ex convento di Sant'Agostino e nella chiesa madre di San Michele Arcangelo, collegate tra loro da installazioni esterne di opere pittoriche e scultore in tema con la natività. Pochi chilometri più in latte, Giano, oltre ai due musei di Ocesani, San Pietro e Lapidarium Dianensis, fruibili tutto l'anno, in questo periodo nel complesso monumentale della Santissima Pietà, è allestita la mostra personale di Gualtiero Passani, che la critica considera uno dei più grandi pittori viventi. Sono raccolte una quarantina di opere che condurranno il visitatore a percorrere un emozionante excursus della variegata esperienza artistica del maestro 92enne originario di Carrara. Appolla invece nel Museo del Costume, che propone la storia della cittadina attraverso il tratto tipico dell'abbigliamento popolare, con una vasta esposizione che ripercorre l'evoluzione del tradizionale abito femminile locale dal XIX al XX secolo, sono anche esposti i lavori del recente corso di modellato e laboratorio sperimentale di lavorazione dell'argilla curato dalla nuova Civitas. A Pertosa poi è possibile visitare l'interessante proposta Nelle Terre dei Principi, Monaci e Comunità Italo-Greche nel Principato Longobardo di Salerno, presso il Museo Mida 1. Una mostra documentaria sulla migrazione di monaci, condadini e artigiani, in fuga dalla Sicilia e dalla Calabria agli inizi del IX secolo in cerca di salvezza e stabilità. Resteranno aperti durante le feste anche due musei archeologici locali, quello di Sala Consilina e il MASC, dove si trovano vasi e oggetti vari che costituivano i corredi delle necropoli di Salenti al periodo tra il IX e il IV secolo a.C., rinvenuti nelle località di San Rocco e Sant'Antonio. I reperti sono accompagnati da un ricco racconto della storia locale. E' quello di Atena Lucana, con la sua selezione dei corredi delle necropoli in successione cronologica dal VII al IV secolo a.C., dalla ceramica con decorazione geometrica di produzione indigena ai vasi con decorazioni a figure rosse di età lucana. Per l'età romana è possibile vedere un'importante iscrizione realizzata sui basoli che pavimentavano il foro, statue e cippi funerari scolpiti e iscritti di età repubblicana e imperiale.